Coronavirus, misure valide dal 12 marzo in tutta Italia per contenere l'epidemia di Covid-19. Limitazioni alle attività commerciali e produttive. Restano aperti le farmacie e le parafarmacie, i supermercati e le attività di vendita di generi alimentari, gli uffici pubblici, l'assistenza domiciliare e i trasporti sociali, la ristorazione a domicilio, gli e-commerce e consegna pacchi, corrieri, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio, di strade, autostrade, stazioni ferroviarie, aereo portuali, lacustre e ospedali, le edicole e le tabaccherie, lavanderie, tintorie e lavanderie industriali, i servizi di pompe funebri, le attività produttive che garantiscono le condizioni di sicurezza per i lavoratori. Restano garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi. Restano garantite le attività del settore agricolo, zootecnico e agroalimentare. Restano chiusi i negozi al dettaglio, i mercati rionali e i centri commerciali, tutte le attività di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc. I centri benessere, parrucchieri, barbieri ed estetiste, le palestre, le scuole di ballo, le discoteche, le sale giochi, le sale scommesse, eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Tutte le scuole, università, asili nido, concorsi pubblici, musei, biblioteche, cinema, teatri e ogni manifestazione sia pubblica che privata, congressi, riunioni, assemblee, raduni. Tutte le cerimonie religiose e civili, compresi i funerali. Le attività produttive che non possono garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori. Per ogni approfondimento consulta le FAQ predisposte sul sito governo.it. Informazioni a cura di Anci Marche e Regione Marche. Numero verde coronavirus attivo dalle 8 alle 20. 800-9366-77 www.un.in.. éclair.it.it.it.it. È una vera per il duodetto per i lavoratori.it.it. Ahistezo per il duodetto per i lavoratori.it.it.it. Let으ne Redditi.it